Il sistema wireless HD audio di Harman Kardon riproduce un delizioso suono multicanale in alta definizione. È sufficiente collegare alla tua rete wireless qualsiasi diffusore wireless Harman Kardon per diffondere la tua musica preferita in ogni stanza. Se già disponi di un sistema audio, lo puoi facilmente collegare per ascoltare musica in streaming utilizzando Harman Kardon Adapt. Per le stanze più grandi, scegli il potente Omni 20 e per le stanze più piccole puoi utilizzare l'elegante Omni 10. Basta premere il pulsante Link su ogni diffusore Omni e la tua musica ti seguirà ovunque. Ascolta musica in streaming dai dispositivi portatili con l'applicazione Harman Kardon Controller. Basta trascinare le tracce dalla tua libreria per riprodurre musica da ogni diffusore o ascolta direttamente in streaming dalle tue app musicali preferite. E dal momento che il sistema è connesso via Wi-Fi, puoi godere di tutta la tua musica senza alcun cavo. Tieni premuto il pulsante Link su qualsiasi Omni per riprodurre la stessa musica da ogni diffusore nella tua casa. Qualità sonora senza rivali, semplice installazione e riproduzione di stanza in stanza al semplice tocco di un pulsante. Don't let the music stop.